Musica Cari amici di Milano 1 Come vedete siamo collegati con un'amica, l'avvocato Stefania Crespi. Ciao Stefania, come stai? Ciao Paolo, bene tu? Bene dai. Senti, oggi abbiamo qualche consiglio da chiederti, anzi ci racconti qualcosa in merito allo stalking, agli stalker, che è un fenomeno un po' che comunque è aumentato, non dico che sia dilagato, però io ho qualche dato. Mi sono un po' informato, c'è uno studio della Criminal Poll che dice che i femminicidi sono in lieve calo rispetto al 2018, però c'è un aumento dello stalking del 18%, il maltrattamento più 30% e la violenza sessuale più 2%, quindi sono numeri che comunque fanno un po' pensare, no? Sì, fanno paura. Ecco, pensare fanno paura. Oggi parliamo con te appunto dello stalking, questo più 18%, cos'è lo stalking? Allora, innanzitutto questi dati sono drammatici, sono drammatici e non fanno altro che sottolineare la gravità di questi reati, perché sono tutte e tre quelli che mi ha citato sono reati, tutte e tre gravissimi. Per quanto riguarda lo stalking, innanzitutto nel nostro ordinamento non esiste lo stalking, ma esiste il reato di delitti, cioè un delitto, quindi ancora più grave, ed è atti persecutori. Stalking, però, rende bene il concetto, cioè che cos'è e che cosa fa lo stalker. Tu stalk è predare, è cacciare, quindi lui è un predatore e la vittima è una preda. Questo in tutte le sue manifestazioni. È un reato molto grave perché è punito da un anno a sei anni e sei mesi, quindi chiaramente nelle sue sfaccettature è molto grave, e esistono tanti tipi di stalking. Quello più, tra virgolette, famoso, consentimi questo aggettivo, è quello relazionale, cioè quello che spinge lo stalker verso persone con le quali si hanno avuto relazioni che possono essere semplicemente, non so, un fidanzato, un ex fidanzato, o un convivente, o addirittura un ex marito, una ex moglie. Questo è quello relazionale perché è motivato soprattutto da ragioni di vendetta, quindi il fatto di essere stati lasciati, il fatto di non poter proseguire la vita sentimentale, porta lo stalker appunto a agguantare la sua preda. Poi c'è quello condominiale che ultimamente è incredibile ma sta prendendo piede e cioè avviene tra vicini. Quindi alcuni vicini fanno queste persecuzioni nei confronti dei propri vicini utilizzando vari strumenti che possono essere i rumori, piuttosto che dopo vi racconterò un caso molto particolare, quello che accade con i cani. E quindi il vicino, diciamo, in tantissimi casi è costretto addirittura a cambiare casa perché la sua vita praticamente diventa impossibile. Poi c'è quello occupazionale che è quello che si verifica nel mondo del lavoro ed è molto simile al mobbing, per cui se vuoi un'altra puntata sarà questa. Quindi il mobbing è la persecuzione sul campo del lavoro, invece è il datore di lavoro o qualche collega che dopo l'orario di lavoro va avanti a stressare con mail piuttosto che con sms attenenti al campo del lavoro. Poi c'è quello giudiziario, cioè il continuare a fare azioni anche infondate rivolte ad ottenere, non so, un risorcimento del danno eccetera, ma infondato e quindi porta uno stress pazzesco alla vittima che si continua a ricevere atti appunto dal tribunale eccetera e quindi lo mette in uno stato di ansia. E poi il cyber stalking che però ve ne vorrei parlare dopo perché ha tutta una connotazione e sta prendendo piedi, quel famoso 18% di cui dicevi è aumentato perché è aumentata quello, anche diciamo dopo la pandemia si è continuati a perseguitare tramite gli strumenti appunto informatici. Guarda, onestamente hai tirato fuori dei modelli di stalking diversi, io pensavo che lo stalking fosse più che altro attinente solamente al problema della gelosia tra persone. Certo, intendi quello relazionale quindi, invece no, è chiaro che poi viene diciamo inquadrato nella stessa figura di reato, quindi poi le conseguenze sono le stesse, ma quelle che possono essere diciamo le motivazioni di base sono differenti. Perché poi alla fine della fiera si sente sempre e spesso, troppo spesso probabilmente, il problema dei femminicidi, no? Allora, qui se vuoi ti spiego brevemente perché è un discorso un po' tecnico. Allora, dopo spieghiamo bene che cos'è lo stalking, però perché è tanto grave lo stalking? Perché talvolta, perché generalmente lo stalker non interrompe la sua attività, cioè è come se fosse in progressione, quindi inizia magari con, non so, mandando qualche messaggio, ma poi inizia a inseguire la vittima, a pedinarla, poi magari va sotto casa e poi magari tenta di farle del male e poi magari la uccide. Quello che è successo a Vanessa Zappalà è un caso eclatante, drammatico. Però dal punto di vista giuridico che cosa è successo? Che ci sarebbe, ci si domandava se fosse un omicidio aggravato dal fatto di essere stato precedentemente fatto uno stalking, oppure se fossero due reati diversi. Quindi la persona che prima stalkerava e poi uccideva potesse essere, come dire, perseguita per due reati. In realtà è intervenuta la Corte di Cassazione a sezioni unite. Non so se sapete che cosa vuol dire. Quando c'è un contrasto giurisprudenziale, cioè una sezione dice una cosa e una sezione dice un'altra, allora poi si può sollevare la questione davanti alle sezioni unite che danno un indirizzo unico. Ecco, questo è accaduto non quest'estate, l'estate precedente, e la Cassazione a sezioni unite ha detto che si applica solo l'omicidio aggravato dal fatto di essere stato precedentemente fatto da uno stalker. Questo non significa che la pena sia inferiore, perché la stampa ha commesso un grave errore, ha detto ecco, si applica solo quella norma e quindi la pena è inferiore. Non è vero, la pena è comunque più grave e quindi diciamo che c'è stato soltanto un misunderstanding da parte della stampa, ma in realtà è giuridicamente corretto parlare di quel tipo di reato. Certo, senti, ma nel specifico cosa fa uno stalker? Io sorrido, ma in realtà è drammatico. Allora, è chiaro che come vi ho detto prima, essendoci tanti tipi di stalking, dipende da quello che facciamo riferimento, però in generale noi penalisti parliamo di condotta, cioè l'elemento oggettivo del reato. Che cosa fa uno stalker, hai detto esattamente, che tipo di comportamento tiene? Allora, la norma parla di persecuzione, quindi atti persecutori che devono essere posti in essere o con minacce oppure con molestie. Quindi vedi che sono due parole molto ampie, non minacce, ma soprattutto molestie, quindi vuol dire dar fastidio a, ok? E quindi è chiaro che possono portare ad una serie di condotte molto diverse tra di loro. Ad esempio telefonare, continuare a telefonare anche con il numero anonimo, oppure mandare centinaia di messaggi o di WhatsApp, oppure piantarsi sotto la casa e suonare il citofono insistentemente, oppure pedinare, quindi magari prendo la macchina e ti seguo, no? Per cui vedi che assume una varietà di comportamenti, ma questo è molto importante perché lo stalking è un reato cosiddetto abituale, cioè si caratterizza per la ripetitività nel tempo delle condotte. Quindi magari posso seguirti, mandarti un messaggio, mandarti una mail, o mandarti tantissimi solo messaggi e quindi diciamo molestarti in questo modo, no? Però quello che è importante è che cosa succede a fronte di queste condotte, no? Cioè le cosiddette conseguenze, il cosiddetto evento, sono tre e sono alternativi tra di loro. Cioè questa condotta di cui abbiamo parlato adesso deve necessariamente portare o ansia, o stress, o paura per sé o per i propri familiari, che possa succedere qualcosa di brutto a sé o ai propri familiari, oppure, oppure, quindi vuol dire alternativamente uno di questi tre, è il cosiddetto cambiamento delle abitudini di vita. Questo è il tipico evento che succede nello stalking. Prima abbiamo detto, non so, tantissime telefonate, la vittima deve cambiare il numero, oppure, ricevo tantissime mail, devo bloccare quel contatto, oppure, se me lo ritrovo sempre sotto casa, a un certo punto la vittima quasi è costretta a cambiare casa, ok? Oppure, io faccio sempre lo stesso tragitto da studio a casa, devo cambiare tragitto, oppure, non ho più la tranquillità di andare a casa da sola, e quindi, non so, devo chiamare mio padre, mio fratello, mio marito, un'amica, perché mi accompagna a casa. Quindi vedi che io devo cambiare le mie abitudini di vita. Allora, questi sono i tre, diciamo, le grandi conseguenze dello stalking. Certo. Senti, ma in questo caso è utile ed è giusto fare subito la denuncia di queste cose? Allora, tu hai detto subito, questo è importantissimo, questo che hai detto, perché in realtà non è così. Perché non è così? Perché, adesso la precintuale esatta non lo so, ma tantissime vittime di stalking non hanno il coraggio di presentare la querela. Perché? Perché hanno paura che l'atteggiamento dello stalker addirittura peggiori, cioè il fatto di essere stati denunciati li porti, diciamo, come dire, ad arrabbiarsi di più e quindi ad accrescere la gravità delle condotte, no? Come ti dicevo prima, va in salita. E allora cosa fanno? Decidono di non querelare, aspettare che la situazione vada meglio nel tempo, ok? In realtà la situazione rarissime volte va meglio e tendenzialmente peggiora. Però il legislatore l'ha capito questo. E quindi che cosa ha fatto? Ha allungato i termini per la presentazione della querela. Quindi non sono i canonici 90 giorni, ma sono sei mesi. Quindi il legislatore ha capito quali erano le fatti specie, ad esempio nella violenza sessuale, ha capito che le vittime non ce la facevano a denunciare immediatamente. Quindi ha dato addirittura 12 mesi. Questo è importantissimo, perché così le vittime hanno il tempo proprio di, come dire, maturare dentro di sé questo. E poi è difficile convincere una vittima a denunciare. Io per esempio non me la sento quando ho di fronte una vittima di dire denunciamo, denunciamo, denunciamo. No, perché andrebbe contro quello che è il desiderio della vittima. Quindi io le dico, da un punto di vista astratto sarebbe giusto così, ma da un punto di vista concreto bisogna vedere se ci sono gli elementi e se soprattutto psicologicamente la vittima se la sente. Quando poi scatta qualcosa dentro di sé, allora si può poi presentare la querela. Querela e non denuncia perché bisogna indicare la volontà di procedere contro un determinato tipo di reato, contro una persona o anche contro i gnoti, se la persona non si sa il nome o il cognome di questa persona. Certo, ma capire la volontà dello stalker, cioè qual è l'obiettivo dello stalker? È possibile, è difficile, è impossibile? Allora, diciamo che da un punto di vista giuridico non è rilevante. Qui io ho una pagina giuridica, avcrespi su Instagram, e tu non hai idea quante volte io scrivo magari un post nel quale dico non è importante andare a vedere il movente e si sollevano gli animi, ma come è importante sapere perché una persona agisce? Allora, dipende da che tipo di norma abbiamo di fronte, perché se il cosiddetto dolo è generico, non ci vuole cioè il dolo specifico. Quindi se il dolo è generico, significa che basta la volontà e la consapevolezza di porre in essere un determinato tipo di condotta. È il tipico esempio dello stalking, cioè lo stalking è un reato per il quale è sufficiente il dolo generico, cioè la coscienza, la volontà di porre in essere atti persecutori. Per cui il giudice non deve andare a vedere perché questa persona agiva. Per esempio per vendetta, come dicevi tu prima, oppure perché la odia, oppure perché sul lavoro quella persona ha ottenuto una posizione migliore rispetto alla sua. Ecco, il giudice non è tenuto necessariamente ad appurare questa volontà, perché è sufficiente capire se lui o lei ha agito nella consapevolezza della illecità delle proprie condotte. Senti, ma invece nel processo, cioè la prova nel processo, come si può appunto provare l'avvenuto stalking? Allora, diciamo che dipende da che tipo di stalking è, nel senso che se per esempio è quello che vi dirò dopo, cioè un cyberstalking, quindi con, non so, mail, piuttosto che con messaggi, eccetera, allora è chiaro che io raccolgo i messaggi, raccolgo le mail, raccolgo tutto ciò che ha utilizzato lo stalker, e quindi è semplice. Quando invece, per esempio, io vengo pedinata, come faccio a provarlo? Devo avere la forza di tirare fuori il telefono e registrare. Oppure se questa persona si piazza sotto il mio citofono e suona tutti i giorni alle 5, allora io magari quel giorno faccio venire mia madre, mia sorella, una mia amica, e dico, lo senti? E poi magari andiamo sul balcone insieme, guardalo lì che mi sta suonando questo citofono, e quindi magari prendere il telefono e fare una foto, perché nel processo penale tutto ciò che è, diciamo, uno screenshot, piuttosto che una foto, eccetera, vengono acquisiti come documenti. E poi c'è invece il caso nel quale c'è la parola dell'uno contro la parola dell'altro. Ecco, questi sono i processi più delicati. Sono i processi più delicati perché le vittime hanno paura di non essere credute, no? Quindi che cosa fanno? Eh, ma io, c'è soltanto quello che dico io e non c'è quello che dice, e c'è poi dopo quello che dice lui, che non è vero, che, non so, le mando centinaia di fiori il giorno, non è vero, no? Ecco, allora in questo caso il giudice dovrebbe basare la sentenza di condanna, qualora ritenga che sussista lo stalking, solo sulla dichiarazione della parte offesa. Può capitare, può capitare, però è meglio avere dei riscontri a quello che si dice. E' più semplice poi da un punto di vista, diciamo, probatorio, arrivare al concetto di colpevolezza. Certo. Prima hai detto cyberstalking. Sì, immaginavo perché va di moda, è bruttissimo dirlo, però immaginavo che tu me lo chiedessi. Eh sì. Eh sì, lo cyberstalking è lo stalking posto in essere con strumenti informatici. Quindi, Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, la mail. Cioè, qualunque tipo di strumento informatico, no? E devo dirti che, ahimè, ma sta diventando dilagante, perché ormai fanno parte della nostra quotidianità questi strumenti, no? E quindi che cosa fanno? Scrivono, ad esempio, centinaia di messaggi. Ma anche non centinaia, ne bastano anche due, tre. Però dipende dal tenore, no? Per cui se diventa minatorio, come dicevamo prima, minaccia. Oppure è molesto, perché comunque io non ho voglia di ricevere questi messaggi. E tra l'altro, a questo proposito, volevo dire che la Cassazione dice che se anche la vittima blocca il contatto, comunque il reato è sussistente. Ma anche se non lo blocca. Cioè, se io voglio vedere quanti messaggi mi manda questa persona per capire quanto pericolosa è, io non lo blocco. E la Cassazione dice comunque tu avresti potuto bloccarlo, no? No, io avrei potuto bloccarlo, ho deciso di non bloccarlo, e comunque il reato c'è. Questo non significa che io non abbia paura. Cioè, il giudice deve vedere che io abbia paura. Un'altra prova, tra l'altro, che mi sono dimenticata di dirti prima, è quella relativa allo stato della vittima, no? Prima abbiamo detto che deve avere paura, deve provare un sentimento di ansia o per sé o per gli altri. Questo come si prova? Si prova attraverso generalmente certificati medici. C'è un medico che attesta, ad esempio, che io sono stressata, oppure che vivo in un costante stato di ansia, ecco, o addirittura ho dovuto prendere delle medicine per stare calma. Allora, in questo caso, risulta provato quello che è, come dicevamo prima, l'evento, la conseguenza della condotta stalkerante, diciamo. Senti, una mia curiosità, poi riprendiamo a parlare di stalker, ma stalking e bullismo, c'è qualcosa collegato? Guarda, Paolo, tocchi un tasto, perché ieri sera ho assistito ad una conferenza sul cyberbullismo, fatto dalla, la cito perché secondo me è molto importante, la Fondazione Carolina, praticamente il padre di una ragazza che si è uccisa, si è uccisa a seguito del primo caso certificato di bullismo, di cyberbullismo. Quindi, non vi sto a raccontare tutta la vicenda, anche perché è molto toccante, però questa ragazza ha subito bullismo, proprio con gli strumenti di cui parlavamo prima, quindi tramite messaggi, tramite mail, erano prevalentemente messaggi di WhatsApp. Allora, sono collegati, nel senso che il bullismo nel nostro ordinamento non è inquadrato in un'unica fattispecie, per cui bisogna vedere esattamente che cosa commette il, diciamo, in questo caso il bullo, piuttosto che invece lo stalker, no? Per cui è possibile che l'attività di bullismo vada all'interno dell'attività di stalking, quindi se il bullo manda tantissimi messaggi, io parlo del bullo ad esempio in un contesto scolastico, che è il tipico, no? Quindi se il bulletto di turno manda centinaia di messaggi al ragazzino, magari delle medie o dei primissimi anni di liceo, è possibile che si venga a creare una situazione di ansia e di stress e che quindi quel tipo di attività possa essere inquadrato nello stalking. Potrebbe però essere inquadrato anche nelle molestie e questo qual è la differenza? Come ti dicevo prima, lo stalking è un reato abituale, cioè necessita una reiterazione nel tempo delle condotte. Invece la molestia è più limitata nel tempo, per cui se lui gliene manda due, allora magari siamo all'interno delle molestie, se invece è reiterata nel tempo e poi, come ti dicevo prima, ci sono quelle famose conseguenze, quindi prova ansia, paura, eccetera, allora in quel caso è stalking, capisci? È chiaro che poi il bullismo, cyberbullismo, cyberstalking, stiamo parlando di mezzi informatici. È chiaro che se quindi io ti mando un messaggio, ma poi ti incontro fuori da scuola e ti do uno spintone o ti metto le mani addosso, è chiaro che da cyberbullismo passiamo a bullismo normale e quindi da un punto di vista giuridico potrebbero esserci, non lo so, percosse, lesioni o magari violenza sessuale nel caso in cui la vittima sia violentata. Se avrai voglia, più avanti magari parleremo solo di bullismo. Certamente. Sì, di stalker, torniamo allo stalker, sono uomini o sono anche donne? Cioè esistono anche le donne? Assolutamente sì, io penso che ho scritto un articolo che vi invito a leggere, lo trovate sulla mia pagina di LinkedIn, in cui c'è la cosiddetta donna stalker. Diciamo che la donna è più suddola dell'uomo, per cui mentre l'uomo tende a commettere fatti più violenti da un punto di vista fisico, la donna invece pone in essere più un'attività di minaccia o di violenza psicologica. Se questa viene reiterata nel tempo, come dicevamo prima, e provoca la famosa ansia e paura nell'uomo, allora a questo punto diventa un'attività di stalking. Però mi è capitato di difendere delle vittime donne da donne, quindi stalker donna, vittima donna, poi mi è capitato invece vittima donna con agente uomo, e quindi mi sono resa conto che ci sono proprio una serie di comportamenti diversi, perché la donna appunto è più mentale. quindi arriva a, come dire, creare uno stato di paura attraverso minacce, messaggi, invece l'uomo tendenzialmente agisce da un punto di vista un po' più violento, quindi non so, la segue, piuttosto che la o lo, perché ci sono vittime anche uomo su uomo, quindi agente uomo e vittima uomo, quindi in realtà è molto vasto come campo di azione. Stefania, continuiamo a parlare di stalking, anzi stalking, e volevo chiederti, ma corteggiare una persona può essere anche percepito come appunto stalking? Guarda, mi viene da sorridere perché ho appena fatto, diciamo, dei post, in cui praticamente riguardava una vicenda in cui un uomo aveva scritto delle canzoni d'amore, ok? E allora il mio pubblico maschile ha detto non è possibile che anche questo possa costituire stalking, non possiamo davvero più fare niente. Allora io li ho tranquillizzati, perché in realtà non è proprio così, cioè dobbiamo guardare tutta la condotta, è chiaro che se io o un'altra persona mi manda ad esempio dei fiori e punto e stop e non sono graditi, la cosa chiaramente non può essere inquadrata nello stalking. Se invece io ogni, non so, venerdì ricevo 100 rose rosse presso il mio studio e questo mi crea uno stato di fastidio, di ansia e poi magari ricevo anche delle mail e poi magari anche ricevo degli sms e poi magari ricevo una meravigliosa canzone d'amore, è chiaro che tutto il contesto si provoca a quelle conseguenze di cui abbiamo parlato prima, quindi da un lato la paura oppure il cambiamento delle abitudini, ad esempio non vado più in ufficio il venerdì, perché so che il venerdì mi arrivano le rose, allora in quel caso anche un corteggiamento ossessivo, e questa è la differenza tra corteggiamento normale e invece corteggiamento ossessivo che sfocia poi alla fine in uno stalking. Ecco, per cui bisogna valutare un po' tutto. Certo. Senti, all'inizio del collegamento nostro hai parlato anche di stalker, stalking riferito agli animali, hai parlato di cani. Sì. Questo è un altro caso molto particolare, praticamente che è giunto fino in Cassazione per dirti quanto poi le vicende vadano avanti nel tempo da un punto di vista processuale. Era un caso di stalking condominiale, come abbiamo visto prima, quindi diciamo era nata come una problematica di carattere condominiale, di battibecchi tra i vicini. Poi la cosa è andata avanti, e uno dei due proprietari aveva una pitbull. Allora, premesso che poi alcuni pitbull sono bravissimi e alcuni pitbull non lo sono, come tutti i cani, ecco, perché anche questo è stato fonte di una, diciamo, di atriba tra pro e contro i sostenitori e invece quelli che erano contro i pitbull. Io non ho niente contro i pitbull, ma il concetto era che la persona cosa faceva? Lasciava questo pitbull girare in giardino senza museruola, senza guinzaglio, al fine di creare quei famosi conseguenze di cui abbiamo parlato prima, quindi ansia, terrore, stress, eccetera. E quindi, in quel caso, la ripetitività di questo comportamento nel tempo ha portato ad inquadrare la fattispecie nello stalking. Quindi lo stalking anche tramite animali. Ok. Senti, io intanto ti ringrazio per oggi perché ci hai dato una visione un po' di tutto questo fenomeno, che è un fenomeno che non ci fa sorridere, anzi, ci fa pensare. È giusto parlarne perché più se ne parla e più forse la gente si informa, no? E quindi... Infatti, scusami se ti interrompo, ma ci tengo a dirlo. È appena stato pubblicato un articolo su il sito dell'associazione per la quale io presto la mia attività e cioè Donne per strada, che è un fenomeno social incredibile. Vi invito ad andare a vedere la pagina Instagram di Donne per strada. Ecco, sul sito hanno appena pubblicato il mio articolo sullo stalking e io l'ho intitolato lo stalking un reato che devasta l'anima delle vittime. Questo è proprio per farti capire che la vittima di questo reato non vive più. Cioè, arriva ad un punto di stress e di paura tale per cui anche l'azione banale dell'uscire di casa comporta paura. Per cui, se io so che esco e mi ritrovo questa persona sotto non mi viene neanche più da uscire. Oppure, se io so che vado sul posto di lavoro e quella persona mi assilla, non vado più a lavorare serenamente. Quindi, purtroppo, crea davvero uno stato emotivo terribile nella vittima. Allora, io non faccio altro che ricordare come poter interagire con l'avvocato Stefania Crespi. a parte che io spero di averti spesso qua con noi in Milano 1. Ok, fa molto piacere a me e penso anche a tutti i nostri amici che ci seguono. Donne per strada quindi? Sì, Donne per strada e la pagina Instagram e anche il sito. Poi, se volete, la Fondazione Carolina e poi, vabbè, la mia pagina Instagram a Vivi Crespi. Ok, allora Stefania, io ti ringrazio e ti auguro buon lavoro anche per oggi. Ci vediamo la prossima con qualche altro tuo consiglio. Certamente. Ok, grazie mille. Grazie, ciao a tutti. Grazie a tutti.